Miei carissimi milanesi ben ritrovati, ci sono puntate che c'è poco da fare, ti emozionano più dei altri se poi il personaggio in questione, l'ospite in questione è una persona che ha fatto emozionare te, tuo papà, tuo nonno, tua sorella, tutta la famiglia da generazione e generazioni, beh non può che essere un importante milanese che oggi è qui con noi in studio lui si chiama Aurelio ma tutti lo chiamano Cocchi, Cocchi Ponzoni, sigla Miei carissimi milanesi ben ritrovati, diamo il benvenuto a Cocchi Ponzoni Buongiorno a tutti, buongiorno a Milano, la mia città natale è la città in cui sono stati tutti i miei antenati perché io sono milanese da tante generazioni Milanese doc Doc ma molto doc, se posso fare una parentesi posso dire che per esempio mio zio che era un sacerdote nel 1930 ha scritto un libro su tutte le chiese di Milano e quindi esiste questo libro meraviglioso che tra l'altro è stato appena digitalizzato dalla biblioteca Sormani in cui ci sono praticamente tutte le chiese che mio zio ha visitato fotografandone ogni opera d'arte perché infatti era un libro anche con le fotografie, con i disegni, con tutto quello che era le ha misurate pure ha fatto un lavoro pazzesco quindi si chiamava, perché è chiaramente morto in questo libro del 1930 si chiamava Don Carlo Ponzoni ed era il fratello di mio padre questo zio prete salta fuori spesso nelle sue storie però, lo racconta spesso quindi vuol dire che è un personaggio lo racconto spesso perché sono molto legato a questo zio in quanto a parte che è stato quello che mi ha messo i miei nomi io c'ho tanti nomi, non so perché ma ha preteso che di infilarmi oltre a Aurelio mi ha chiamato anche Benvenuto perché sono arrivato dopo due sorelle poi Francesco perché era un collega di mio padre poi anche un altro che adesso non mi ricordo nemmeno più è come i calciatori brasiliani esatto, hanno questa sfilza di nomi praticamente però io non l'ho mai conosciuto perché quando è morto io avevo un anno quindi non sono stato in grado di vederlo proprio però per dire che io sono mio nonno materno per dire aveva cantato va pensiero ai funerali di Verdi la famiglia, quella Ponzoni che dava da fare a Milano esatto, la famiglia Ponzoni era proprio il milanese alla grande nella sua carriera poi a volte ha fatto anche il prete mi ricordo no? ma no ci sono un paio di volte in cui non l'ho interpretato il prete mai? mai, mai, mai sì forse una volta una volta un prete anglicano tipo una cosa del genere in un film saxofone si chiamava sì facevo una specie di predica balorda sì a proposito di nomi Cocchi è vero che il nominio non arriva la sua mamma? sì è stata mia mamma quando sono nata perché nel corriere dei piccoli di quegli anni là c'era un personaggio che si chiamava Cocchi che era un fantolino che lei sosteneva che mi assomigliava che mi assomigliasse e quindi mi ha chiamato come quel personaggio Cocchi appunto e io non ho fatto mai niente per togliermelo perché anche mi divertiva questo nome come allora questo piccolo Cocchi il piccolo Cocchi era un casinista era notevole era abbastanza abbastanza così irrequieto diciamo sì dove cresce il Cocchi? in via Vincenzo Foppa al 41 i miei compagni di giochi mio compagno di giochi soprattutto e diciamo anche compagno di scuole elementari compagno di banco era Pietruccio dei Dick Dick poi Lallo dei Dick Dick sempre che abitava in via Foppa un po' più avanti di me poi c'era compagni di giochi Ricky Gianco che abitava in via Stenda i fratelli Ovadia Moni Ovadia e il fratello insomma eravamo un gruppo di bambini che poi piano piano nella vita sono diventati abbastanza famosi non male infatti diciamo cosa si mangiava da quelle parti era l'aria di via Foppa? forse era l'aria all'epoca c'erano solo campi oltre alla mia casa è quella di Pietruccio Montalbetti che era appunto il cantante di Dick c'erano campi poi d'estate arrivava diciamo quando faceva molto caldo arrivava un tizio che metteva una specie di baracchino con le angurie e per noi bambini sai ci lasciavano uscire col caldo in strada fino alle 10 di sera andavamo a comprare una fetta d'anguria cos'era la cosa più bella di quegli anni appunto a parte la fetta d'anguria a parte il fatto di essere molto giovani anche ebbè quella era la prima cosa ma poi era l'atmosfera che era molto serena non c'erano pericoli non c'era traffico noi giocavamo per le strade quindi giocavamo alla lippa che era un gioco molto particolare tipico di quegli anni cioè un gioco poverissimo perché si faceva con i manici di scopa si tagliava un pezzo di manico di scopa poi si faceva una specie di palla che non era una palla ma era una cosa elittica che si batteva si alzava e si dava un colpo come se fosse stato nel baseball e si diceva vi un due tre lippa lappa e partiva il colpo e questi erano i giochi poi giocavamo al giro d'Italia fatto con i tollini delle bibite insomma erano giochi da poveri però erano la nostra vita e il nostro divertimento da bambini so che da poco ha pubblicato anche un libro racconta questa storia in questo libro racconto la mia vita insieme agli anni della mia carriera e anche diciamo sia televisiva che cinematografica che teatrale e insieme ad altre avventure che ha avuto diciamo alternative rispetto a quelle dello spettacolo la sua vita dello spettacolo si sa tutto a 27 anni arriva il successo giusto? si 27 anni è stato il debutto televisivo ma noi già dal 64 perché 4 anni prima avevamo debuttato in cabaret nel cab 64 che era diciamo l'antessignano un pochino del cabaret di quegli anni insomma con Tinine veglia veglia mante gazza con lino toffolo bruno lauzzi felice andreasi e poi con noi veniva gabber veniva iannacci anche se non erano non facevano parte del nostro gruppo ma la nostra era una cooperativa praticamente antelitteram in cui si dividevano alla fine della serata gli incassi che erano veramente miserabili adesso a 27 anni si è un nastro nascente un giovane emergente si è anche a 35-40 ormai gli attori a 42 anni fanno un film giovane attore così come era invece avere 27 anni a metà degli anni 60 beh guardi era diciamo tutto come si può dire esaltante perché noi venivamo da un periodo storico particolare il dopoguerra che era un periodo pieno di fermenti di voglia di rinascere di crescere di di fare nuove cose di intraprendere nuove imprese c'era fermenti a tutti i livelli sia nell'ambiente artistico che nell'ambiente industriale da tutte le parti c'era questa voglia di ricostruire un'Italia che dopo la guerra era disastrata era tutta era in macerie in poche parole certo quindi noi facevamo parte di quella di quella generazione della guerra per cui avevamo dentro il nostro animo nella nostra testa un grande entusiasmo una voglia di fare e il fatto di avere diciamo iniziato ad avere un grande successo inizialmente col derby col nostro gruppo in cabaret dove praticamente ogni sera mandavamo via 200 persone perché non riuscivano ad entrare facendo diciamo gli spettacoli dal lunedì alla domenica ma senza interruzione non avevamo un giorno di pausa quindi già prima prima di fare la televisione venivamo da questo grande successo che chiaramente però era legato a Milano è servito per gestire l'altro successo perché diciamo all'epoca venivano a vederci da tutta Italia venivano da Roma Manfredi Sordi Lavermuller Marco Ferreri Tognazzi per vedere cos'era questo fenomeno che all'epoca era considerato un fatto anomalo per l'Italia perché praticamente diciamo eravamo diventati una specie di simbolo di una Milano che stava cambiando a parte del derby nel derby si sa tutto ne abbiamo parlato tutti la zia di Abattantuono alla guardaroba tutte le leggende e i miti era la mamma la mamma ecco appunto scusami grazie mi fido più della fonte mi fido più della fonte certa io sono certissimo infatti si è stato praticamente detto di tutto c'è qualcosa però che magari a volte si si dimentica quando si parla di quel posto beh quel posto credo che fosse una specie di come si può dire via della una specie di di melting pot della Milano dell'epoca ci poteva trovare da da Mina e a a Turatello quindi da Valanzasca a che ne so agli attori di prosa a Tino Bozzelli a diciamo perché non c'era non c'era diciamo un filtro rispetto non era come in America che c'è il buttafuori che lì entrava chiunque e quindi noi il nostro pubblico era fatto sia dagli industriali da persone famose che da gente semplice che anche da malavitosi c'era di tutto c'era di tutto cosa ti pensa del fatto che oggi è dimenticato il derby come luogo non come memoria ma come luogo c'è più tornato poi sì io ci sono tornato perché il luogo esiste ancora ed è occupato da dei giovani giovanissimi anzi che continuano a a farne diciamo c'è una libreria un ristorante e chiaramente è un immobile ne fanno un buon uso ma sicuramente sì però il problema è che sta cadendo a pezzi perché è un immobile che stranamente non ha non ha proprietari non si capisce di chi è e quindi chiaramente nessuno ne rivendica la proprietà lo dica da Battantuono che magari sapendo che c'è la mamma che lavorava lo richiede lui poi no non credo perché è un immobile che se uno lo comprasse dovrebbe farci milioni e milioni diciamo che se c'è si nasconde il proprietario volentieri è un immobile tra l'altro molto molto bello perché è una villa sì degli anni 20 con 10 camere perché era un albergo anche il derby poi c'è un gran terrazzo un giardino insomma è veramente un immobile importantissimo da un punto di vista così dal punto di vista proprio strutturale poi chiaramente diciamo nessuno ne rivendica la proprietà e quindi i giovani giustamente ci stanno dentro chiaramente non possono permettersi di fare delle opere di manutenzione perché costerebbe una cifra e quindi io sono stato recentemente la cosa che mi ha colpito è che la sala dove noi facevamo i nostri spettacoli è rimasta uguale chiaramente a toc come si dice a Milano bassa giusto una domina bassa sì era diciamo con quelle anche con quelle strutture che il gestore di allora buongiovanni aveva fatto per cercare di infilarci più gente possibile che erano delle specie di mangiatoie dove erano tutti uno vicino all'altro con dei buchi dove mettevano i bicchieri e le bottiglie insomma per cui era riuscito da 150 posti a farne 300 quindi è stato veramente abile lui in questa direzione però diciamo che purtroppo il locale sta andando a pezzi ecco beh magari potrebbe essere una volta buona che insomma con anche il benestare di Cocchi si pensi magari di fare qualcosa ma io volentieri penso che sarebbe anche doveroso perché un pochino è un'immagine della storia di Milano degli anni 60 70 insomma carriera pazzesca diciamo appunto negli anni 60 inizia in televisione a un certo punto abbandona per un breve periodo diciamo la televisione ritorna per un po' negli anni 90 con Sulla Testa con Sulla Testa con Paolo Rossi con Paolo Rossi avevo diciamo la mia vita diciamo di lavoro era destinata soltanto al teatro di prosa per 20 anni ho fatto praticamente solo quello tranne qualche interregno qualche film che ho fatto nel frattempo tra uno spettacolo teatrale e l'altro però diciamo che sono rientrato in televisione con Paolo Rossi e Gino e Michele che mi hanno chiamato per fare Sulla Testa a Baggio c'era quel bel tendone che aveva messo la Rai dove praticamente abbiamo per 10 puntate 10 settimane fatto questo spettacolo che all'epoca veniva dopo diciamo il periodo un po' scioccante e anche umiliante di Mani Pulite e al 93 credo 92 e Sulla Testa era il titolo perché era un modo anche di dire a Milano cerchiamo di tirarci su dopo tutti i disastri che erano successi dal punto di vista politico e anche chiaramente sociale come avete fatto appassionato era molto milanese come trasmissione uno di Pavia faceva fatica a comprenderla a volte però avete appassionato un pubblico nazionale come avete fatto? non lo so forse eravamo bravi no ma poi anche c'era il fatto che in quella trasmissione hanno debuttato anche dei geni secondo me della comicità come Antonio Albanese come Aldo Giovanni e Giacomo Bebo Stort insomma e quindi diciamo che c'era un parterre di artisti abbastanza anche se non conosciuti all'epoca comunque le faccio una confidenza in una di quelle puntate tra il pubblico c'era un giovane Fabio di 12 anni che seguiva segnato a vita ovviamente da un'esperienza del genere devo dire che a 12 anni forse un genitore adesso non so se porterebbe il figlio a vedere uno spettacolo del genere ma io ringrazio molto i miei genitori che mi hanno portato lì e beh sì infatti ha avuto molto successo ma solo adesso che me lo ripeteva io ogni tanto vado su Rayplay a rivedermela perché c'è un pezzo in cui mi si vede nel pubblico e vado solo per quello in realtà no scherzo 10 puntate e niente 10 settimane 30 anni fa sembrerebbe un secolo fa com'è che siamo ancora a parlarne chi studia a scuola quella roba chi studia a televisione a studio perché credo che fossero diciamo anni in cui mancava proprio un tipo di linguaggio anche dello spettacolo televisivo insomma diverso dalla tradizione che era quella un pochino banale e ripetuta per anni e anni del linguaggio del teatro diciamo della vaudeville del teatro della man spettacolo insomma della rivista tradizionale insomma quindi c'è stata come abbiamo fatto noi io e Renato e anche Villaggio nel 68 abbiamo rotto una tradizione di linguaggio della rivista dello spettacolo leggero insomma tradizionale creando inventandoci noi avevamo già fatto la nostra strada abbiamo già fatto il derby per tanti anni però abbiamo abbiamo creato qualcosa di originale che non che non è irripetibile anche perché come molte volte mi chiedono ma chi chi sono gli eredi vostri di Cocchi e Renato ma non esistono chi sono gli eredi vostri non ce ne sono perché noi avevamo un linguaggio talmente particolare ci sono tantissimi bravissimi comici e questa è la prossima domanda sapere se c'è qualcuno che le piace di quelli moderni ma di quelli moderni abbiamo parlato prima del mago Forrest per esempio che è uno che fa cabaret pur essendo è un è più tanto moderno ormai però comincia a venire sui tanti e lui no ma certo di giovanissimi sinceramente non ne conosco adesso proprio l'altro dell'altra sera era con Gino e Michele che mi dicevano che ci sono loro stanno facendo la nuova serie di Zelig che ci sono dei nuovi esordienti che sono bravi io non li conosco ma diciamo che io rimango ai giovani per me insomma io c'ho qualche annetto quindi per me è uno dei miei non possiamo ricordare quanti anni io ho 82 anni no perché è una cosa impossibile non si direbbe mai nel senso non si direbbe mai non si direbbe non lo so un giovane quarantenne io non me li sento gli anni per fortuna mia comunque dicevo che ci sono dei comici come magari che non sono diventati i famosissimi come Maurizio Milani per esempio che io trovo che sia geniale insomma poi ci sono sempre i miei amici Aldo, Giovanni e Giacomo che sono sempre ma ci sono anche Ale Franz per dire dei comici nuovi che mi piacciono insomma chiaro sulla testa bisognava alzare la testa Milano doveva rialzare la testa l'ha rialzata e adesso con la testa? ma la testa l'ha rialzata Milano infatti io che vivevo a Roma fino a quel periodo lì poi a parte il fatto che nel 92 facendo sulla testa ho conosciuto la mia attuale moglie quindi chiaramente da Roma poi dove io vivevo sono tornato a vivere a Milano la Milano che ho ritrovato dopo 20 anni quasi di di permanenza a Roma è stata una Milano che mi è piaciuta e infatti come vedete sono ancora qua sono camocchi e sì perché comunque io sono un milanese Milano è nel mio cuore nel mio DNA quindi non posso farne a meno allora visto che Milano è di Milano le chiedo flash delle risposte cosa ne pensa Cocchi di alcuni temi caldi della Milano del momento? la prima Stadio di San Siro mi sembra una gran cazzata farne uno nuovo direi che non c'era la risposta migliore perfetto le piste ciclabili? beh ce ne sono abbastanza mi sembra però chiaramente sono in un contesto talmente caotico che comunque risultano anche pericolose le Olimpiadi? beh le Olimpiadi sono un bel rebus io penso che non vorrei essere nei panni di chi deve organizzarle perché facciamo delle Olimpiadi senza montagne qui c'è la montagnetta di San Siro potremmo organizzare l'anno fa fecero appunto tomba vinse uno slalom sulla montagna di San Siro vediamo sempre questo gli scioperi dei mezzi del venerdì eh beh sono una bella rottura di palle come si dice però anche quei poveracci che hanno quei problemi diciamo anche di stipendi o di contratti hanno anche il diritto di farlo il venerdì io non ho mai capito se è un fatto diciamo di comodo però se pensiamo che quando uno sciopera non guadagna quel giorno lì perde la paga quindi non è una cosa così comoda ecco dipende molto dalle situazioni ci sono certe categorie che che hanno certamente tutto il diritto di fare sciopero la sicurezza la sicurezza in questa città è diventato un problema come in tutte le città importanti del mondo perché non è se uno va che ne so a Londra a Londra è ancora peggio è molto più pericolosa Londra di Milano però chiaramente ci sono dei posti deputati dove succedono sempre i casini tipo l'uscita delle discoteche la movida dove sarebbe meglio avere una tensione maggiore rispetto a quella che c'è attualmente ha nominato Londra lei ha vissuto è andato a Londra per un periodo voglio sapere ma questa sua immagine british se l'è portata da là o ce l'aveva già quando è arrivata là? ce l'avevo fin da piccolo ah fin da piccolo piccolo lord era un piccolo maniaco delle lingue perché io veramente avevo la mania fin da ragazzino di studiare le lingue infatti studiavo l'inglese su topolino perché compravo topolino diciamo nell'edizione italiana poi mio papà mi portava la domenica in piazza della scala dove c'era un edicolo che vendeva i comics americani quindi c'era topolino inglese io confrontavo diciamo il linguaggio del topolino americano con quello della traduzione in italiano per imparare proprio il linguaggio corrente ma avevo 12 anni infatti infatti il mio primo lavoro è lavorato per due anni a Linate dove facevo il check in counter per la British Airways per la Lufthansa e per la Swiss Air perché sapevo inglese tedesco e francese il suo primo lavoro è stato? il suo primo lavoro è stato quello il mio primo lavoro è stato quello interessante che anni dopo farà una canzone invece su Malpensa è interessante quella è arrivata è arrivata un po' in ritardo a parato a punto che lei ha fatto il tecnico ha fatto il cattare io sono diventato ragionato ragioniere ma non avrei dovuto farlo ho fatto ragionerie perché diciamo mio padre era malato quindi aveva una malattia che oggi sarebbe una stupidaggine ma all'epoca era inguaribile è una malattia alle coronarie che oggi si farebbe uno stencil un pacemaker non succederebbe niente ma allora questa malattia era un casino quindi mia madre anche se diciamo l'indirizzo che mi ha dato quando ho finito le scuole le scuole le medie avevano l'indirizzo di fare il liceo classico e io ho fatto questi studi per ragioni familiari diciamo così non sapendo perché doveva trovare un lavoro sicuro poi invece è andato a fare l'attore cioè il peggio che poteva fare esatto infatti il peggio come è reagito mamma dele la mamma la mamma diciamo è stata lei che mi ha chiesto di fare ragioni perché di avere un toc de carta come si diceva una volta a Milano perché appunto per via della mia situazione familiare però diciamo che comunque appena finito la generia io mi sono subito dedicato al lavoro all'aeroporto di Linate che allora era un salotto una cosa bellissima mi sono divertito tantissimo io c'avevo 19 anni e ogni giorno mi vedevo passare davanti la callas tutti i personaggi perché all'epoca in aereo ci giravano solo quelli insomma i grandi personaggi non si deve lasciare un shake con le flip flop ai piedi esatto e quindi diciamo che la mia vita teatrale è iniziata nelle osterie dei pittori come racconto anche nel libro che ho appena fatto dove io e Renato ci esibivamo cantando le canzoni popolari cantando le canzoni anarchiche queste cose qui e successivamente ci siamo trasferiti da quella dalle osterie al cab 64 continuando a Mantegazza Renato conosciuto a scuola giusto? no era nell'altra scuola lui come qui ci sono dei miti girano storie strane è un errore perché io e Renato siamo praticamente nati insieme nel senso non è che siamo nati dalla stessa madre avete un anno di differenza giusto? no siamo coetane coetane le nostre famiglie mio padre il padre Renato si conoscevano ancora prima che noi nascessimo quindi le nostre famiglie erano già amiche ancora prima che noi nascessimo è lì che avete iniziato a provare i vostri sketch sì perché io ho due sorelle maggiori di me e Renato due fratelli maggiori che erano già in compagnia come si diceva una volta quindi era inevitabile che noi crescessimo insieme la cosa più bella che avete fatto insieme cos'è stata? la cosa più bella che avete fatto insieme la nostra diciamo adolescenza la nostra gioventù è stata condivisa quindi e quello è stato un periodo esaltante il fatto di di passarle notate nelle osterie milanesi all'Occa d'Oro che adesso non c'è più in Via Lentasio con dei personaggi come Lucio Fontana Piero Manzoni Dino Buzzati Luciano Bianciari questi pezzi da 90 Dario Fo Franca Rame conoscere Iannacci Giorgio Gaber insomma tutti i personaggi che poi sono diventati un lustro della nostra città proprio quindi abbiamo avuto una una giovinezza esaltante ecco a livello artistico invece qual è la cosa di cui va più fiero insieme a Renato e poi mi dice anche quella invece da solista beh insieme insieme a Renato abbiamo fatto diciamo il Poeto e il Contadino per esempio che è una trasmissione che abbiamo fatto nel 1972 secondo me è un piccolo gioiello così dicasi anche della precedente che era e si intitolava il buono e il cattivo ma anche canzonissima che abbiamo fatto nel 74 dove abbiamo fatto la sigla di chiusura che era La vita alle belle che è diventata poi all'epoca un nel hip parade è stato un mese quindi questi sono stati diciamo i momenti magici che ci hanno caratterizzato e da solo e da solo cos'è la cosa più fiera a livello artistico a livello artistico per il cinema diciamo che forse il film che ho fatto che mi è mi è piaciuto moltissimo è stato Cuore di cane il primo film che ho fatto poi i telefoni bianchi primo con l'attuale il secondo con Dino Risi e poi anche un film che abbiamo corale che abbiamo fatto insieme con Renato con tutto il gruppo di gabarè che era Stum Trooppen che era secondo me un piccolo gioiello che è un film veramente interessante l'ho rivisto recentemente e mi è piaciuto ancora si parla spesso del politicamente corretto ultimamente lei e i suoi compagni dell'epoca invece eravate scorretti oppure no? scorretti non avevamo delle remore diciamo rispetto alla anche perché diciamo che essere corretti da un punto di vista del linguaggio dipende molto dalla tua cultura della tua natura noi naturalmente non siamo mai stati scorretti non abbiamo mai non siamo mai stati irriguardosi verso certe situazioni che richiedevano delicatezza e un po' di sensibilità infatti perché c'è un limite dov'è il limite della comicità? la comicità ha dei limiti esiste o non esiste questo limite? ma il limite esiste da un punto di vista diciamo del linguaggio a seconda delle finalità che uno si propone per esempio Lenny Bruce negli anni cinquanta aveva spiegato che l'iterazione di certe parolacce poi perde 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 forza come oggi noi diciamo una figata fino a cinquant'anni fa la parola figa era era oscena ok voi non avete mai detto una parolacce noi no ma per esempio Zavattini alla radio non so se si ricorda che faceva la trasmissione chiamate Roma 3131 e per provocazione proprio per per un pochino sradicare il perbenismo imperante aveva urlato figa per circa 30 secondi insomma ecco Paolo Rossi che l'ha citato prima invece non era proprio la prezza invece è proprio la lettera lui le diceva ma faceva ricordo che l'edizione laureato c'era stata un'interpallanza parlamentare per quante volte avesse usato la parola cazzo durante una trasmissione sulla RAI sì diciamo che anche in quel caso ormai ha visto ultimamente ho visto questa pubblicità che fanno Elio e le storie tesi dove cazzo fa parte del linguaggio pubblicitario quindi ormai come diceva Lenny Brusso fuori di ripetere ripetere negli anni negli anni il diciamo la provocazione del linguaggio si sminuisce voi eravate giovani erate giovani a Milano i giovani di oggi invece a Milano guerra o pace? ma no i giovani a Milano guardi io ho una figlia che ha 29 anni la mia quarta figlia e conosco le sue amiche i suoi amici quindi dipende molto anche dalla fortuna che hai e da dove nasce cioè chiaramente ci sono delle zone della città che sono un po' dimenticate che avrebbero bisogno di più attenzione per cui sicuramente se ci fosse più attenzione verso certe certe situazioni diciamo che riguardano il sociale si creerebbero meno disperazione e più persone felici o perlomeno serene parliamo sempre con questi giovani qualcuno che adesso ha voglia di intraprendere una strada come la sua glielo consigliamo glielo sconsigliamo o gli diamo qualche consiglio ma io guardi penso che se uno ha dentro di sé il fuoco il sacro fuoco il talento anche e la voglia di cominciare questo tipo di lavoro io non sarei per niente contrario a farglielo fare a perlomeno dire provaci provare perché se uno ha veramente questo istinto naturale perché il problema è che molte volte uno pensa di poter fare l'attore ma finché non non si non si diciamo misura col palcoscenico non riesce a capire se è veramente una strada che poi gli può piacere anche o no perché uno non si rende conto magari uno vaneggia nella sua mente vorrei fare l'attore vorrei fare il cantante ma finché non arriva a confrontarsi col pubblico anche molte volte voglio dire non è necessario è meglio fare come dire le scuole non sono sufficienti a creare un artista se uno diciamo non ha il talento diciamo vero iniziale difficilmente riesce a andare oltre un certo livello insomma però se uno ha questa voglia questo desiderio la nostra diciamo la nostra situazione dello spettacolo comunque è cosa che purtroppo la gente e il pubblico in generale non conosce o fa finta di non conoscere non lo so è una situazione uguale a quella delle altre industrie la nostra industria dello spettacolo come quella dove si fanno le automobili dove c'è praticamente una una situazione che richiederebbe anzi richiede sia la la possibilità per i giovani di accedere anche a un apparato tecnico strumentale nel senso che nel teatro ci sono bisogno anche i produttori i quelli che tengono i conti delle serate ci sono bisogno c'è bisogno degli attori che dicono anche il pranzo è servito oltre a quelli o i protagonisti cioè è un lavoro come nelle fabbriche ci sono gli operai ci sono gli impiegati ci sono i dirigenti nel nostro mestiere è la stessa cosa diciamo che da un punto di vista economico anche lo spettacolo ha una gestione diciamo economica importante per cui si favola si dice sempre ma qui nel spettacolo sono tutti dei smandrappati il lavoro non è vero non è vero niente se uno entra nel mondo del cinema non ci sono non ci sono scappatoie i film o soprattutto oggi una volta era diciamo negli anni 70 60 c'erano i produttori che praticamente rischiavano come alla roulette quando facevano un film oggi come oggi ci sono delle strutture che attutiscono quel tipo di rischi ci sono le Netflix le altre piattaforme che garantiscono comunque la possibilità di una produzione anche calmierata rispetto al rischio ecco per cui diciamo che il mestiere dello spettacolo secondo me è anche fatto a diversi livelli è sempre un mestiere che è come un altro mestiere non vedo nessuna differenza la più grande soddisfazione in generale che ha avuto nella sua vita ma quella di avere quattro figlie quella soprattutto è stata la mia più grande soddisfazione tutte femmine tutte femmine non c'è il benvenuto sono tutte benvenute tutte benvenute il benvenuto non è arrivato però diciamo che ho anche tre nipoti maschi hanno attutito la faccenda insomma e rimpianti? ma guardi io mi considero una persona molto fortunata per cui i rimpianti sono solo quelli che di non di non riuscire ad arrivare come mia madre magari a 101 anni e 4 mesi ecco avrei un rimpianto se non riuscissi ad arrivare al suo record forse quello sarebbe no beh rimpianti veri e propri sinceramente non ne ho bella vita e ho avuto una bella vita sì ho fatto ho avuto la fortuna di seguire diciamo le strade che in quel momento sentivo che adatte al mio momento e allora prima di salutarci chiudiamo parlando ancora di Milano il futuro di Milano quale sarà? ma sarà bellissimo secondo me è una città che ha tutte le risorse per poter diventare una città diciamo più più importante da un punto di vista culturale sicuramente ma ha tutti diciamo i i segnali di una di una ricrescita perché abbiamo avuto degli stop con la pandemia non parliamone ma io sono molto ottimista devo dire molte volte alcuni pensano che sia un po' anche coglione ma comunque la cosa non mi tocca per niente io spero spero che che l'umanità in generale comunque riesca come sempre successo a cadere e poi a rinascere insomma in qualche modo cochi la ringrazio tantissimo davvero prego grazie anche per aver raccontato una Milano che magari appunto conosciamo poco invece ce l'ha portata bene e possiamo approfondire tutto questo grazie anche al suo libro giusto il mio libro racconta diciamo un pochino più dettagliata la mia storia diciamo soprattutto della mia infanzia adolescenza e poi tutte le avventure che mi sono capitate quello che non passa su te che te che te no ci sono delle cose che vi sorprenderanno perché le mie avventure diciamo laterali rispetto allo spettacolo sono abbastanza curiose ah ok diciamo l'off the record il backstage il backstage off the record è più interessante ormai penso di sì ah bene bene allora grazie mille davvero grazie a voi grazie a voi grazie carissimi milanesi noi ci sentiamo e ci vediamo alla prossima grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi